Finisce come in consiglio dei ministri, tra Fischi e Sberleffi. Il progetto reggine è già in bilico, proprio come il governo Letta, ad aprire ufficialmente la crisi a Maranto e il Carpi di Mister Vecchi. Il gol allo scadere di Memushai rischia davvero di far saltare il banco, Memushai come Silvio Berlusconi. È bastata una semplice mossa per rimettere tutti in discussione. La zampata del centrocampista somiglia tanto alla frecciata del Cavaliere e come il governo, la reggina, si ritrova a leccarsi le ferite. Un solo punto conquistato nelle ultime quattro giornate di campionato. Un bilancio da far arrossire, un po' come la prestazione fornita ieri al Granillo. Il Carpi fa un figurone, si prende la scena, si prende i tre punti e lo fa senza rubare nulla. Il 4-4-1-1 di Vecchi è un inno all'equilibrio, possesso palla, corsa, sacrificio. Così la matricola emiliana cancella la sconfitta subita in Coppa Italia e si prende una bella rivincita nei confronti di una regina impalpabile, senza mordente. Le scelte di Azzori, che per l'occasione rispolverà il tridente dentro Fischnaller, Cocco e Di Michele, si rivelano infruttuose. Strasser non incide, gira a vuoto dall'olio confermato in mezzo al campo, si accende a sprazzi e così affidarsi alla velocità del solito Maicon diventa l'unica arma per provare a far male ad un Carpi che dimostra sin dall'avvio grande personalità. Se la gioca a viso aperto, la bendi Vecchi, senza paura, è lei a fare la partita tra lo stupore generale di un granillo che presto inizia a mugugnare. La regina si scuote solo sul finale e sempre grazie alle accelerazioni del brasiliano Maicon e gli attaccanti? Gli attaccanti danno un segno della loro presenza in campo solo al minuto 41 quando Cocco spreca così la più facile delle palle gol. La regina prende coraggio, si scrolla finalmente di dosso all'apatia iniziale e al tramonto della prima frazione con Maicon, scheggia così la traversa. Nella ripresa il copione non cambia, il Carpi tiene in mano il pallino del gioco, la regina riparte di rimessa proprio come al nono quando Maicon si divora così il gol del possibile vantaggio. È l'ultimo sussulto a Maranto, sì perché da questo momento la regina esce di scena e si consegna agli avversari. Strasser non si degna, Colucci, subentrato dall'olio, si limita al compitino e così arrivare dalle parti dell'ex Kovacic diventa un'impresa titanica e neppure l'ingresso di Gerardi che prende il posto di Cocco serve a cambiare l'inerzia della gara e così Vecchi intuisce che è tempo di provarci. Del resto la regina non ne ha più e in debito d'ossigeno non risponde più alle sollecitazioni del tecnico e dopo aver rischiato più volte in pieno recupero capitola. La conclusione di Memushai non è nulla di trascendentale ma basta a beffare un benassi distratto. È il gol che decide la partita, è il gol che manda all'inferno una regina senza anima e le scuse di Azzori a fine gara non bastano certo, a placare gli animi il granillo è una polveriera finisce tra i fischi, epilogo inevitabile di un pomeriggio da dimenticare.